Benvenuti in una nuova puntata da TG Inbracci. Oggi scopriremo il mio inizio del nostro istituto e di attualità. Storpe Stein, le pietre compiti in ciampo che ricordano le vittime della Shoah. In merito, aggiornato dalla memoria, abbiamo analizzato gli Storpe Stein, le pietre di inciampo commemorative che ricordano le vittime della Shoah. Gli Storpe Stein sono stati creati nel 1995 da Gunther Derwig. Su esse vengono riportate nomi, data di nascita, luogo di nascita, luogo di morte e i luoghi dove sono state imprigionate e in molti casi sterminate le vittime. In poco più di 12 anni, sono comparsi più di 56.000 Storpe Stein in tutta Europa. Negli ultimi anni, nella città di Torino, Midanno e Roma, sono comparsi nuovi Storpe Stein, per dimostrare che nonostante i piani passino, la memoria resta. I ragazzi di giornalismo web hanno approfondito i temi della solidarietà e della collaborazione sui giornali, con i 30 ragazzi che sono diventati alfieri della Repubblica. Il 14 dicembre, Sergio Mattarella ha eletto 30 ragazzi e ragazze come alfieri della Repubblica. Essi hanno ricevuto un diploma. Questo diploma diceva che il loro comportamento è sempre, cioè, è e sarà per sempre, un comportamento da cittadino esemplare per tutti. E anche che il loro comportamento esprimeva dei concetti importanti su cui si fondava la Repubblica Italiana. Margot Friedlander al Parlamento Europeo. Siamo tutti uguali. I reporter della scuola hanno approfondito il discorso sulla giornata della memoria, ascoltando le parole dette al Parlamento Europeo, dalla sopravvissuta all'Olocausto. Margot Friedlander. Il 27 gennaio, in occasione della giornata della memoria, il Parlamento Europeo si è riunito per parlare e determinare una sessione plenare speciale. Friedlander, dopo il discorso della Presidente Roberta Mezzola, ha aggiunto Siate umani, non si può amare tutti, ma tutti meritano di essere rispettati. Non esiste il sangue cristiane, il braico mondo umano, c'è solo sangue umano. L'apporatorio di storytelling, dall'autobiografia alla biografia. Gli annuni della seconda assiso, il vitale della professoressa Marilena Perraros, hanno svolto un laboratorio in riniti da storytelling. Il percorso è l'autobiografia alla biografia. È iniziato con un approfondimento del concetto di narrazione e con una riflessione di vari tipi di storytelling, passando poi all'analisi della parola autobiografia. Dopo questo primo momento teorico di spilare gli alluni, si sono cimentati nella realizzazione pratica di auto. Narrazioni come gli acconti di un settimo, gli acconti di un quadro, il roleplay, l'autobiografia di un personaggio, con i riattanti, gli oggetti di accontro e le racconti di altri. Il digital storytelling è una vera e propria metodologia didattica attraversale che permette di apprendere nozioni di scipione, attraverso la narrazione e l'utilizzo di impianti di approfondimento rigidari. Come i libri prendono vita, book therapy in realtà virtuale è aumentata. Progetto lettura ti presenta un libro 3.0. Gli alluni della classe seconda A hanno realizzato un book therapy con la realtà aumentata e virtuale. Grazie all'applicazione Cospace Edu e Google Workspace, attivando competenze logiche oltre che narrative, la lettura non è mai stata così coinvolgente. Grazie alla realtà aumentata e virtuale, i libri prendono vita. Gli alluni della seconda A, guidati dalla professoressa di lettere Marilena Ferraro, già dallo scorso anno realizzano video recensioni dei libri letti, creando un ambiente di condivisione per il racconto dei libri attraverso la realtà aumentata. Il virtuale con Cospace Edu e Merch Group. In questi ultimi mesi hanno creato anche i book con Book Creator, che raccontano tutte le loro recensioni e i loro lavoratori 3D. Questa attività rientra nel progetto lettura del titolo e presenta un libro 3.0. Andate a salire alle stelle. Gli allunni delle classi seconda D e seconda F, protagonisti di un meraviglioso viaggio, sono le tracce del sommo Poeta. Gli allunni delle classi seconda D e seconda F hanno iniziato un percorso di scoperta nella letteratura e si sono messi in viaggio sulle orme di Dante Alighieri, con l'intento di diventare lettori più consapevoli del testo più famoso della letteratura italiana, la formelia. La memoria non si ferma. Le classi prima, seconda, terza B e terza C hanno partecipato, in occasione della giornata della memoria, ad un incontro organizzato dall'ANPI, con il padrocinio del comune. Dopo la visione di un filmato, ha messo in luce alcune importanti testimonianze, come quelle di Pietro Verracina, Ligiana Segri e San Modiano. Questi ultimi due cittadini onorari della città di Aviglia. è stata la volta di due interventi molto interessanti, perché non bisogna dimenticare quello che è accaduto, perché con questa cosa sono morti sei milioni di ebrei. e come diceva Primo Levi, comprendere è impossibile, ma conoscere è indispensabile. e dobbiamo ricordare quello che è successo. Il Giorno della Memoria è una rivolenza internazionale, celebrata il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell'Europausto. è stata istituita dalla legge numero 211 del 27 luglio del 2000 dal Parlamento italiano, che ha in tal modo aderito alla proposta internazionale di dichiarare il 27 gennaio come giornata in commemorazione delle vittime del popolo ebraico e di tutte le memoranze su come si abbatte ogni anno. su cui si abbatte le barbarie del narcisismo e del fascismo. Nella nostra scuola ogni anno invitiamo i nostri ragazzi a riflettere su quanto è apparuto, affinché i simili eventi non accadino per questo. giornata dei calzini spagliati, la diversità con la ricchezza. le classi della primaria e le classi della prima e seconda della secondaria in quattro febbraio hanno ricordato la giornata dei calzini spagliati per sottolineare il valore dell'università. Se vi siete imbattuti con i grandi e piccoli che indossavano calzini diversi tra loro, sappiate che non avete avuto erogicizzazioni. e no, non c'è nessuna nuova nota che faccia in città. Tantomeno un problema di calzini, l'applicazione più semplice ed equitamente mobile è la giornata dei calzini spagliati. Naga, una decina di anni fa, da una maestra di scuola alimentare. Uso dei social network per comunicare. I reporter del corso di giornalismo web incontrano le associazioni. I reporter dell'istituto incontrano i membri dell'associazione, il mercatino di apiglia, per conoscere come avviene la comunicazione oggi ai dati dei social. dei social network. Durante il corso di giornalismo web, i reporter della terminale hanno avuto modo di incontrare i membri dell'associazione il mercatino di apiglia, per affrontare il tema della comunicazione sui social network. I ragazzi guidati dalla professoressa Marilena Pedraro hanno incontrato il presidente dell'associazione, Fabio Marconi, il vice presidente dell'associazione, Marc Simeoni, e altri due membri del gruppo Anunziata Calumbelli e Sanzuolo Cimillo. Il scopo dell'incontro è riconoscere attraverso un'intervista le attività dei social, le attività sociali delle associazioni e le modalità della loro comunicazione sui social network. L'istituto è stato nominato CAMBA for Education District School. Siamo chiedi di comunicare che l'istituto comprensivo Antonio Gramsci è stato nominato CAMBA for Education District School. Un riconoscimento che vede la nostra scuola sempre più all'avanguardia nell'inizio delle tecnologie dinamiche scolattiche e delle tecnologie didattiche, innovative e esclusive. questa era l'ultima notizia per il mese. Seguiteci sul canale YouTube. Ci vediamo al prossimo episodio.